Le inondazioni in Corea del Nord hanno causato oltre 130 morti, quasi 400 dispersi e oltre 100.000 sfollati perché le loro case sono state distrutte. Sono i dati dell'Ufficio dell'ONU per il coordinamento degli affari umanitari, mentre la Croce Rossa internazionale lancia l'allarme sul fatto che 140.000 persone necessitano urgentemente di assistenza umanitaria. Gli abitanti di Hoeryong e dintorni non hanno più accesso all'acqua potabile e migliaia di ettari di terreni agricoli sono stati sepolti dall'acqua. Non sappiamo ancora quanta parte dei raccolti di riso o di grano sia andata distrutta, dice un portavoce della Croce Rossa, ma in una situazione in cui l'autonomia alimentare è già a rischio in tempi normali, potrebbero esserci gravi conseguenze e un'ulteriore emergenza nei prossimi mesi. Per mancanza di infrastrutture adeguate, la Corea del Nord è soggetta alle catastrofi naturali. Un bilancio simile era stato registrato nel 2012 e negli anni 90 altri disastri provocati dalle forti precipitazioni furono tra le cause della carestia che provocò centinaia di migliaia di vittime.